Elezioni con giallo a Pagani, ancora non è chiaro se tra 15 giorni ci sarà o meno il ballottaggio. La parola passa alla commissione elettorale. Secondo i primi risultati, per un pugno di voti, Gambino non avrebbe centrato la vittoria al primo turno, ma le sue liste, a quanto pare, avrebbero già superato il 50%. In queste ore si deciderà, arriverà il risponso ufficiale. Nel frattempo, Gambino si mostra sereno e sorridente. Per lui la città ha già scelto e con grande emozione commenta questi primi dati. In base a quelli che sono i dati del Comune ci sta una discrasia tra quelli che sono i voti delle liste che hanno superato il 50% e i voti del Sindaco che, nonostante abbia preso un centinaio di voti in più alle liste, non hanno superato il 50%. Quindi ci sta qualcosa di strano che si farà presente alla commissione elettorale nel pomeriggio. Poi sulle schede che sono state contestate, anche su questo versante, vedremo in che modo, in che termini, insieme con i partners della coalizione, agire. Però comunque sono tranquillo, sono sereno, andiamo avanti con sobrietà rispetto a quelli spiegando ancora di più quelli che sono i progetti, i programmi di sviluppo del territorio e su questa scia continueremo il nostro modo di fare. Un risultato che lascia più l'amaro in bocca per una vittoria mancata al primo turno o comunque una grande soddisfazione per l'entusiasmo e l'affetto che il popolo paganese li ha dimostrato. Ma io e Pagani ci sentiamo da sempre una sola cosa. Certo, l'amaro in bocca più che per mancato raggiungimento di questo fatidico 50% su cui poi si andrà a verificare e per come sono state condotte le manovre di scrutinio. Ieri all'improvviso si chiudevano i seggi, persone che facevano parte di questa amministrazione entravano, uscivano. Veramente è stata una cosa brutta, brutta. Ovviamente sono state chiamate all'età dei carabinieri in ogni situazione. Una sezione si è chiusa, si è finito di scrutinare il tutto verso le 4 del mattino, 4, 4 e mezzo, perché non si trovavano 30 volte. È capitato veramente di tutto di più. Molto caos, molta confusione, come c'è stata molta confusione anche all'ufficio anagrafe del comune di Pagani, dove molta gente, sono stati io stesso ad allertare i carabinieri, domenica pomeriggio, perché molta gente ha rinunciato ad andare a votare perché vi erano file enormi, attese di ore e perché si erano bloccati i terminali e l'ufficio anagrafe non si adoperava a rilasciare i certificati manualmente. C'è stata molta superficialità. Io credo che sia stata una cosa involontaria, almeno spero, credo, spero. Così non sia stata una cosa voluta, però andiamo avanti con serenità, tranquillità e vediamo quello che succederà. Un risultato soddisfacente per tutte le liste che l'hanno accompagnata, con un centrodestra unito che è tornato a sfiorare ragguardevoli percentuali. Direzione Pagani è la prima lista della coalizione, poi c'è Fratelli d'Italia, una buona attestazione anche della Lega. Ma assolutamente, assolutamente sì. Io voglio ringraziare tutte le donne e gli uomini che mi hanno onorato della loro presenza nelle liste che hanno creduto e credono in questo progetto di rilancio per la città di Pagani. Hanno condotto insieme con me una campagna elettorale con grande serietà, parlando soltanto e solamente di progetti, di programmi, di sviluppo del territorio. Siamo stati sempre molto attenti a non cadere nelle tentazioni, nelle provocazioni a cui qualche competitor ci spingeva. E quindi di questo sono orgoglioso, veramente orgoglioso. Mi compiaccio veramente con tutte le donne e gli uomini della coalizione. Siamo ancora al condizionale. Se dovesse essere ballottaggio, insomma, che cosa accadrà? Come vivrà questi 15 giorni? Cosa si aspetta? Abbiamo letto anche qualche considerazione dell'altro competitor che invece ovviamente gioisce ad un eventuale ballottaggio perché ritiene che questo risultato in realtà avrebbe indebolito lei. Vabbè, io come mio solito, con serenità, con molta tranquillità, ma allo stesso tempo con la determinazione che appartiene alle persone che credono in quello che fanno, andremo, affronteremo anche questi altri 15 giorni, con, ripeto, parlando di progetti, di programmi, perché qua veramente la città è versa in condizioni pietose. Poi, per l'amor di Dio, se i cittadini dovessero essere contenti di come sono stati amministrati in questi cinque anni, più in cui è dal 2009 e dal 2011, quando è stato facendo funzione il bottone, alziamo le mani, prendiamo atto e, per l'amor di Dio, continuo a fare consigliere regionale. Un commento su De Prisco, un'affermazione nella sua comunque, insomma, discreta. Lui ha già detto che non entrerà in Consiglio Comunale, si dimetterà alla prima seduta. Qualcosa da dire anche a De Prisco, a chi lo ha sostenuto? No, io non entro nelle problematiche di dimettersi o non dimettersi, però ha avuto un ottimo risultato, mi compiaccio ovviamente con lui e con la sua coalizione, facciamo in bocca al lupo. Ma lei in questa seconda fase, insomma, cercherà anche di apparentarsi con qualcuno che amminano avanti per la sua strada e chiede il voto ai cittadini? No, apparentarsi, andiamo avanti così con le amiche e gli amici che mi hanno sostenuto, perciò continueremo ad andare avanti per la nostra strada, cercando di, ripeto, rimboccandoci le maniche, lavorare per quella che deve essere l'operazione rilancio della città di Pagani. Io sono convinto che effettivamente il peggio è passato, è che è il momento di rimboccarci le maniche e che tutto andrà bene. Uno sguardo al Consiglio Comunale, tanti amici di sempre l'affiancheranno in questa nuova avventura al Comune di Pagani, ci sono anche volti nuovi. Molti volti nuovi, molti, molti, molti volti nuovi in questo Consiglio Comunale. La cosa mi fa enormemente piacere perché si abbina, diciamo, l'esperienza di amiche e amici che sempre nel corso degli anni, anche al mio fianco, hanno dato, hanno messo, hanno lanciato il cuore al di là dell'ostacolo per la città di Pagani, a persone che per la prima volta si affacciano in questa nuova avventura che a mio avviso sarà un'avventura straordinaria perché i prossimi 5 anni saranno i 5 anni dove si andrà a realizzare la storia dei prossimi 50 anni della città di Pagani.